Mi hanno presa, mi hanno gettata a terra, uno di loro ha tirato fuori il pugnale e mi ha detto o tu ci dai i soldi oppure noi che uccidiamo. Un mese fa Petra è stata aggredita e rapinata nel bar dove lavora a Treviso. Una storia come se ne sentono tanti ormai. In Veneto il senso di insicurezza è diffuso. I dati parlano di un furto ogni due minuti. E cresce la voglia di arrangiarsi da sé. Io cittadino normale che vado a lavoro non ho una sicurezza. Ho pensato di farmi il porto d'armi. Ma come sono io? Molte donne. Perché purtroppo noi donne siamo abbandonate. In armeria aumentano le richieste, soprattutto gli scacciacani e pistole a salve. Il compagno di Petra, assessore provinciale, il porto d'armi ce l'ha già. E pochi mesi fa ha risposto al fuoco durante un tentato furto. Mi sono affacciato alla finestra proprio del bagno. Ho visto questa persona, ha sparato un colpo che ha centrato il muro a un metro di sotto dove mi sono affacciato io. Poi ho sparato un altro colpo. Io ho sparato alcuni colpi in aria così per spaventarli. Per avere sparato tre mesi di sospensione del porto d'armi. Uno si difende come poi. È lo spirito di autodifesa di chiunque. Io non sono per il far west, sono per il rispetto delle leggi. Ci vuole maggior tutela. In questo momento sta passando uno dei spettatori. Ormai li riconosciamo tutti quanti perché sono personaggi noti. Padova ha un passo dalla famosa via Anelli. Contro spaccio e prostituzione combatte un comitato di cittadini. Alle forze dell'ordine non possono fare tutto. Se vogliamo che le nostre città e i nostri quartieri vivano bene dobbiamo contribuire noi segnalando e continuando a dare indicazioni. Così fanno i gruppi spontanei di controllo del vicinato, nati un po' in tutto il Veneto. Cittadini che diventano sentinelle. A Treviso il comune li ha arruolati per così dire per monitorare il territorio. Crediamo nella compartecipazione dei cittadini. Questo è l'unico modo per avere tra l'altro un territorio monitorato 24 ore su 24. È quasi mezzanotte. Inizia ora la nottata di ronda per le vie più degradate di Mestre. I ragazzi del comitato SOS Mestre escono diverse sere a settimana per controllare le loro strade. Hanno il volto coperto, ci dicono, per evitare ritorsioni da parte dei criminali perché di furti mi hanno sventati tanti. Sono dei ragazzi molto giovani, credono di poter pulire tra virgolette la città, ripulire da tanto degrado. Ci siamo prefissati una regola che è quella di mai sostituirsi alle forze dell'ordine e controllare solo la città, la nostra città.